5 tisane diuretiche per combattere le vene varicose Oltre ad aiutarci ad alleviare a combattere le vene varicose, grazie alle proprietà diuretiche di queste tisane potremo evitare e prevenire la ritenzione idrica Le vene varicose sono considerate un problema estetico che influisce negativamente sull'immagine femminile a causa dell'aspetto che assume la pelle quando compaiono Oltre a questo, è fondamentale sapere che potrebbero indicare problemi di salute circolatoria o linfatica che causano reazioni infiammatorie ai tessuti Le vene varicose compaiono quando le valvole unidirezionali delle vene si debilitano riducendo il flusso sanguigno dalla parte inferiore del corpo verso il cuore I capillari, di conseguenza, aumentano di dimensioni e, poiché il sangue tende a rapprendersi, compaiono le vene varicose Per fortuna, si tratta di una condizione che può essere contrastata tramite diverse terapie, poiché è possibile migliorare la circolazione e ridurne in maniera notevole l'aspetto Tra questi troviamo alcune tisane dalle proprietà diuretiche che, favorendo l'eliminazione dei liquidi trattenuti, facilitano la riduzione delle vene varicose A seguire vi presentiamo le migliori 5, affinché possiate assumerle per completare il trattamento Tisane per combattere le vene varicose 1. Tisana di coda cavallina La coda cavallina è un ingrediente naturale al quale vengono attribuite proprietà antinfiammatorie e diuretiche che risultano fondamentali per ridurre le vene varicose L'assunzione di questa tisana migliora il flusso sanguigno nelle vene e tonifica i capillari evitandoli insorgere dell'infiammazione Ingredienti 1 bicchiere d'acqua 250 ml 1 cucchiaio di coda cavallina 10 g Preparazione Fate scaldare un bicchiere d'acqua e aggiungete un cucchiaio di coda cavallina Lasciate riposare 10 minuti a temperatura ambiente e poi bevetella Modalità di consumo Bevete 2 o 3 tazze di questa tisana al giorno, minimo 3 volte alla settimana 2. Tisana al prezzemolo La tisana al prezzemolo è un rinomato rimedio per tenere sotto controllo la ritenzione idrica e i problemi infiammatori ad essa associati Contiene vitamine e minerali che favoriscono il processo di depurazione del corpo Oltre a stimolare l'eliminazione delle sostanze di scarto che interferiscono con la corretta circolazione Ingredienti 1 cucchiaio di prezzemolo fresco 10 g 1 bicchiere d'acqua 250 ml Preparazione Aggiungete il prezzemolo fresco in un bicchiere d'acqua calda e lasciate riposare per 15 minuti Filtrate la bevanda e servitela Modalità di consumo Assumete un bicchiere di questo infuso a digiuno e, se volete, ripetetene l'assunzione a metà pomeriggio 3. Infuso di ipocastano L'azione diuretica e antinfiammatoria dell'ipocastano è stata valorizzata fin dall'antichità come trattamento alternativo per le difficoltà circolatorie che influiscono nella formazione delle vene varicose Sia la sua assunzione sia la sua applicazione mediante impacchi possono migliorare la funzione venosa Oltre a ridurre il dolore e l'infiammazione Ingredienti 1 bicchiere d'acqua 250 ml 1 cucchiaino di ipocastano 5 g Preparazione Scaldate l'acqua e aggiungete l'ipocastano Lasciate riposare 10 minuti e bevete Modalità di consumo Bevete una tazza di questa tisana al giorno, per due settimane consecutive 4. Tisana di amamelide La bevanda naturale di amamelide possiede proprietà diuretiche che promuovono l'eliminazione dei liquidi trattenuti nel corpo stimolando la circolazione Il suo effetto astringente rinforza i capillari delle vene e ristabilisce la funzione delle valvole che facilitano il ritorno venoso Ingredienti 1 cucchiaino di amamelide 5 g 1 bicchiere d'acqua 250 ml Preparazione Aggiungete un cucchiaino di amamelide in un bicchiere di acqua calda e lasciate riposare per 10 o 15 minuti Modalità di consumo Bevete la tisana due volte al giorno, per tre settimane 5. Infuso di salvia Conosciuta come la pianta delle donne La salvia possiede proprietà antinfiammatorie e diuretiche che favoriscono la disinfiammazione delle vene migliorando la circolazione I suoi nutrienti favoriscono il processo di eliminazione dei liquidi e regolano i processi infiammatori dei tessuti Ingredienti 1 bicchiere d'acqua 250 ml 1 cucchiaio di foglie di salvia 10 g Preparazione Fate scaldare un bicchiere d'acqua e aggiungete le foglie di salvia Lasciate sobollire per due minuti e poi spegnete il fuoco Fate riposare fino a raggiungere una temperatura sopportabile, adatta per essere bevuta Modalità di consumo Bevete due bicchieri di questa tisana tre volte alla settimana Siete prone a trattare le vene varicose dall'interno? Preparate queste tisane e vi renderete conto che sono il miglior complemento per i trattamenti contro questo problema